Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e Barberino, sulla A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa, sulla FIPILI in direzione mare due chilometri di coda per lavori tra Firenze Viadotto dell'Indiano e Scandici. Code per incidente tra Scandici e la Strassigna. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori scambio di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la A1 di Firenze in Pruneta. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola per lavori alla rete idrica fino al 21 giugno di vieto di transito tra via della Cupola a via del Canale. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!